Il prossimo anno vedrà arrivare in Valle di Ledro più di mille allievi vigili del fuoco per un campeggio formativo e distruttivo. In preparazione di quell'importante evento il distretto dell'Alto Garda Ledro ha organizzato ieri un interessante raduno per gli allievi locali. Il programma ha visto un'escursione sul Monte Baone con visita alle placche, meta di tanti appassionati rocciatori, e alla circostante olivaia con presentazione dei lavori degli olivicoltori grazie alle spiegazioni di Mauro Pederzolli. Alle 12.30 i 30 giovani aspiranti vigili del fuoco presenti hanno pranzato nella ospitale proprietà del volontario dei nuvola Leonardo Rosà a L'Agel. Alle 14.30 visita il castello di Arco con le guide messe a disposizione dall'Accademia dell'Olio che ha anche preparato una gustosa degustazione dell'Olio Alto Gardesano. A seguire tutti in marcia per il ritorno verso la caserma di Caneve accompagnati dagli istruttori Alex Cagliari, Sergio Galas, Tommaso Pedroncelli, Nora Petri, Nereo Tommasi, Diego Tosi e Giorgio Turrini.